Ragazzi se questo video arrivasse Ovviamente voleva dire dovesse arrivare 20.000 like Io e Piaz sceglieremo due persone nei commenti E caricheremo 14.000 gemme a ognuno di voi Quindi spolliciate tantissimo Spolliciate tantissimo Davvero super sfida In questa idea del contest ragazzi è nata da King Perché come vedete 223.000 gemme ancora alle A Vi ricordo chiaramente di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto Direi che possiamo partire con il video perché oggi ragazzi siamo davvero Con un video pazzesco Partiamo con il video ma prima A sigla Salve a tutti ragazzi sono Piazza Bentornati nel mio canale Oggi ragazzi siamo qui in compagnia di King per procedere Ciao a tutti ragazzi Scalata Guardate chi c'è sopra di noi Cody Couch Non l'abbiamo mai visto Ha una coppa sopra di noi King per chi non lo sapesse Ragazzi che sto ospitando Un mio amico ormai Capo di Yitachem Attuale primi in Italia come clan Al mondo ancora non siamo primi Ma Top 10 Ci si lavora Si prova a puntare Alla top 10 Siamo top 15 E i primi in Italia Devo dire che È un ottimo risultato Io sono quarto Ma con calma Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo le 700 coppie In realtà un po' c'è Non parliamo di clan Ma parliamo di singolo Perché oggi ragazzi andremo a fare Ben due attacchi Barra 3 Dipende da come va ragazzi Perché va bene fare i video Ma bisogna anche fare i video con testa Perché si tratta di top 20 mondiale E ok attaccare Ma bisogna farlo con testa Ci vuole anche un po' di fortuna E questo lo sapete sicuramente Immergiamoci nel video Partiamo subito Attacca King Il primo attacco lo fa da lui Dai Vediamo un po' chi farà il secondo Perché anche io Ho un po' di esse Quindi potrei lasciare a lui Il secondo Dipende dal villo Raga Se il villo non mi convince Attacca lui Lo dico subito Piazza ma così tu lo fai No ragazzi capite Comunque Si tratta di Di coppie altissime E se fail a lui Sti cazzi è il suo profilo Se fail io col suo Con il coach Ma non ci credo Oh mio dio Sopra di noi Dai ragazzi Sono 31 coppie King e lo sai Sono 31 coppie Non sono 30 Perché non sono uguali Ma sono 31 coppie Questo vuol dire Scavalcare 5 4 o 5 persone E non ha le muda maxate Ok scusate ragazzi Zoom un attimo in avanti So che si vede piccolo Non odiatemi Ok Questo stai già Come attaccare So So come posso attaccarlo Dall'estrattore Scassalo ti prego Partiamo con le streghe dietro Subito eroe a tancare Perché il mortaio Ha un raggio troppo elevato Uccidilo Uccidilo Ok salta Salta la trappola Per il gigante Questo è buonissimo Tesla bomba aerea Buonissimo Deve andare giù Con il mortaio Eroi subito Deve andare giù Ok adesso il mortaio Lo mandiamo giù Ok siamo dentro E siamo dentro Con l'eroe In furia No 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 L'eroe 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 ci abbandona No l'eroe L'eroe ci abbandona Però ci sono le streghe Cattivissime lì dietro Giganti Giganti sono partiti Giganti sono partiti Forse riusciamo a prendersi una stella Speriamo Speriamo Era partito benissimo L'attacco Raga Non so cosa sia successo Non so cosa sia successo Peccato Primo attacco Che Era un po' Che non si sbagliava Così tanto No esatto Raga abbiamo fatto Dico abbiamo Perché anche io Non ho fatto male Guardiamolo per sfizio Anche se oramai Penso di sapere il risultato Però qua siamo a 45 45 Attacco sniper Naturalmente Attacco sniper Per dopo andare con l'eroe A provare la seconda O concludere di percentuale Davvero peccato Perché va spaccato Pocchissimo Attacca solo Attacca sempre così Questo qua Sai che dovremmo cominciare anche noi E se è arrivato Alle nostre coppe così Evidentemente L'attacco riga funziona Però ti spiego Il problema dell'attacco sniper È che se Non sei capace Ad usarti le truppe In questo caso Lui ha fatto il 53% Una stella E ha ancora 10 arcieri Se lui sbaglia E consuma 5 arcieri in più Per fare lo stesso risultato Non si fa assolutamente niente Come in questo caso Secondo me Non ha spaccato abbastanza Al lato vicino al municipio Per andare con l'eroe Per andare con l'eroe In questo caso Forse riesce anche a farlo Andando dalla parte Da difesa area Dove adesso sta sparando L'arciere Per farti capire Esatto Penso che da lì Possa entrare Oppure anche dall'auto Calorisero Ce la fa E così forse Mette direttamente Esatto L'eroe O di lì o di là Ce la fa Due stelle dovrebbe farcela Anche perché l'eroe Però attenzione Il Calorisero non è morto Abbiamo ancora un barbarello No Ma l'arciere Ce ne è là Siete venuti due arcieri Bravo Ragazzi Si vede Quando si parla di top mondiale Davvero bravo La gente attacca molto bene Contento di aver perso così Perché questo attacco qua Ha un rischio di fallimento Ha un coefficiente di difficoltà Altissimo Altissimo Quindi comunque Chapeau a Cody Che l'abbiamo Bello Io lo Difficilmente insulto qualcuno Specialmente io elogio e basta Si portano a seconda stella Perché andrà a caricare l'eroe Guardate l'eroe Quanto fa male Al dieci Vi faccio uno zoom Super Perché Se lo rinfuria Ma che fa Se lo rinfuria Fa ancora 82 83 In un colpo Grazie Avevo tutte le difese del villaggio Mamma mia Mamma mia Complimenti a Cody Che ci dà un meno 30 secche Meno 30 29 Perché era sopra di noi Era sopra di uno Cosa dici Faccio una io Fai una te Vuoi farla te Faccio una io Vai pure Così se dovessi sbagliare Anche questo Almeno siamo tranquilli Che poi se piazza perde Non succede niente Vabbè ci sta a perdere Ragazzi siamo alti Scusate Non mi ricordo Se ho gemmato l'eroe Sì ok Che poi ancora attacchiamo Senza eroe Senza eroe Però potrebbe essere Una sfida No Io non dico niente Perché senza eroe La ste coppe No L'eroe avete visto no La potenza dell'eroe Senza eroe Facciamo una stella Esatto L'eroe sul municipio Lo distrugge da solo Infatti noi Negli attacchi Nei video precedenti Molto spesso Stattiamo di fare La seconda stella Ancora prima Di lanciare l'eroe Perché si capisce Un po' in tutto Chiaramente se l'eroe Arriva A A targettare Intanto il clan Dai la salutiamo Sì sì Un saluto intanto Tutto il clan Il clan Da Ok Ok Abbiamo salutato Lo spinto bene Sei ancora con capo Non ti abbiamo più Fatto Sono ancora con capo Perché lui fa Spesso entra Esci quindi Grazie Per avermi Lasciato Con capo Perfetto Ok Abbiamo salutato Anche i miei ragazzi Ci siamo Coincidenza Aperto Questo Eric Dei Knight Come sempre Ok Questo villo Forse potremmo avere Un lieve vantaggio Da semplice fatto Che è molto 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 Vicino Al lato Intanto Allargando Ho notato Ma poi ha messo Esattamente La base Dell'eroe Qua Sai cosa possiamo fare Noi manteniamo La stessa tattica Vuoi usare i giganti Andiamo con l'eroe qua Mi tengo gigante Mi tengo gigante Infurio subito Perché così Ho i tre colpi bonus Adesso vado Subito dietro Sì sì ragazzi Se si è partito Lontanissimo Subito dietro Da partire lontanissimo Con la strega Così come abbiamo già visto Fa almeno due o tre spawn Ok come vedete Infatti l'eroe Ha già dato Un colpo Ok vado con l'abilità Ho messo i tre giganti Per provare a stare lì Non ti saprei dire Non ci ho fatto caso Mi è sembrato Meno corposo Vabbè Tenti d'occhio l'abilità Ok Ci siamo Ok Io quando faccio L'abilità Ok Una bomba gigante Però È andato via Quello spacca tutto Forse abbiamo ancora Qualche streghetta viva Se va su quel mortaio Strega in basso Che va sul mortaio Magica Ok Magica Il problema però Resta Quell'arciere È andato giù Non c'è più Oh Seconda Ok Seconda No Bravissima Seconda Bravissima Bravissima Seconda stella Bravissima Bravissima Questa attacco riesce Molto spesso così L'ho visto anche Quando ho attaccato io Che sono uscita a fare La seconda stella Esattamente con una strega Perché molto spesso Capita che la strega Oh ma no Il calorifero Ha spazzato via Quando muoiono Davvero sono notevoli Non lo so Magari hanno lo sniper Stanno andando semplicemente Vittoria Vittoria 14 14 coppe Perché purtroppo raga Queste coppe è così 14 coppe Il 1414 Dovessi Perdere contro una persona così Perderei 40 50 60 coppe Dipende dal dislivello Ma è assurdo 50 coppe Che sono A te A te la decisione Ti senti di fare l'attacco Abbiamo tempo di fare un altro attacco Il tempo materiale c'è Io apro il villaggio Se non mi convince Evito di fare Così si vede che è proprio tutto Tutto in live Che non abbiamo registrato niente No poi soprattutto Non taglierò niente Voglio che sia davvero tutto diretto Scusate lo shettro Si passa sempre Ogni video Il magico shettro Vediamo un po' come andrà O sennò puoi Puoi fare un mini coaching in live Se non dovessi riuscire ad attaccarlo E far finta che lo stai attaccando tu Come se dovessi spiegare a loro Che guardano il video Come si può attaccare Vabbè non ho detto che c'è la faccia Perché avete visto comunque Che a volte ci si schianta con un 30% A volte si fanno due stelle A volte si fanno tre stelle Purtroppo Qui sta tutto nella difesa E nel dove metto le trappole Giuste nel posto E anche ogni caso Un po' di fortuna Sia in attacco che in difesa Naturalmente Ok abbiamo aperto Aia questo è grosso Questo è grosso Questo è quello che abbiamo vinto prima Abbiamo preso 35 coppe Che era sesto al mondo I titoli me li stanno servendo Sti ragazzuoli qua comunque Era lui E non voglio gufare L'avevo attaccato io lui eh Io non te lo voglio gufare Se te la senti Che la base ti convince Sai attaccare Dammi due info Dove faresti Tu io Cosa qui Dall'altra Come quello di prima Io devo essere sincero Per provare ad entrare Veramente bene Attaccherai Dall'estrattore Zona Dove ci sono gli arcieretti E i barbarelli Che girano Non mi ricordo mai Come si chiama Come si chiama Da lì però Gigante perché il cannone Perché il cannone ha tanto raggio Ok l'eroe Tutto insieme Bravissimo Ok Ovviamente l'eroe Se ne va per gli affari suoi Come tutte le volte Adesso apriamo E l'eroe gira Adesso apriamo E l'eroe gira Vi ricordo a tutti Che i giganti al 12 Hanno l'abilità pugno Di sara minorata Nooo E non entra più l'eroe Però ha finito Allora abbiamo un'occasione Abbiamo un'occasione E l'eroe sta girando E l'eroe sta girando Dai piazza Ora devo rinfuriare Dai piazza Quella strega là sopra Sta facendo un lavoro Che non so chi potrebbe far meglio Vai giù Vai giù Vai giù Vai abilità Abilità Veloce 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 abilità Ok Calma Forse ci siamo Un colpo Due colpi Tre colpi No non ha dato tre colpi Però è andato giù qua E il mortaio super Aspetta La strega dove va la strega No va attaccare il I pipistrelli Mi prende il municipio Il municipio secondo me lo prende Abbiamo preso Lo prende 48 Fai qua 50 Giazz Oh Lui ha smesso di attaccare presto Però magari lui è partito subito Intanto continuiamo con la percentuale Oh ma la vita vita il morta Ah ma lo facciamo entrambi eh No perché il calorifero secondo me Ti si pacca subito È immediato Però così Secondo me il tempo che il pipistrello arriva lì Il calorifero l'ha cotto Non ci ha pensato nemmeno Vabbè intanto l'ha cotto Lo stai Non ci ha pensato nemmeno Ok adesso vediamo cosa succede 13 però Oh 13 Ragazzi Abbiamo vinto Ragazzi scusate ma Abbiamo vinto sotto consiglio di King Questo più 13 davvero Complimenti davvero 50-53 Se non faceva il pipistrello Si Pareggio Due cose Era un pareggio Ma questo è sceso Tra l'altro guarda il clan Scusami Guarda il clan del giocatore Che magari Eh Non il nostro Quello di Tremlebon E dove era? Dai gli attacchi Vai negli attacchi Attacco Ok nel profilo Mega Empire Apri il clan Ok non vai Vai sulla villaggio base Ah beh ma loro sono Sì ma guarda che clan Quindi loro non sono i primi che passano Eh Io questo clan qua lo conosco Sono tutti leggeri Ma i Mega Empire Li conosco anch'io Mega Empire Tanta roba eh Mega Empire sono devastanti Anche qua giocano benino eh Oddio Non sono spaziali ma Vabbè Però si difendono Fanno no Sicuramente gioca bene Qualche maxatone c'è Ragazzi Allora Attualmente al mondo Mi sa che non ci siamo scollati Siamo un po' scesi 21 21 perché Abbiamo perso qualche coppa Perché io l'ho perse 29 Poi l'abbiamo guadagnato Qua c'è stato un 27 29 Meno 2 Meno 2 Meno 2 Ma ragazzi questa serie è così Si sale di poco Si scende di tanto Purtroppo è così Anzi Non è andata neanche malaccia ragazzi Vedete che per questo video è tutto Da Piazza e da King appunto È tutto Ci vediamo domani Alle ore 15 E Ciao